E continuiamo il nostro viaggio sul nostro territorio con il nostro focus sulle municipalità. Oggi è la volta della nona municipalità che comprende i quartieri di Succavo, Pianura e quindi diamo il benvenuto al suo presidente Andrea Soggiomo. Buongiorno e benvenuto a Mattina Live. Buongiorno e grazie per l'invito. All'attenzione verso la manutenzione delle strade, questo è un obiettivo veramente primario che lei persegue con dedizione. In modo particolare in questo momento vi state concentrando verso Via Montagna Spaccata e Via Cinzia. Quindi quali sono le opere in atto? Gli interventi che si stanno programmando su Via Montagna Spaccata e Via Cinzia sono interventi molto rilevanti, impattanti e richiesti dalla nostra collettività. Questo è un lavoro che si sta portando avanti di concerto con l'assessore Cosenza al quale va tutto il nostro ringraziamento per il supporto che ci sta dando perché gli interventi che sono previsti sono sostanzialmente i seguenti. Su Via Cinzia con il piano operativo complementare 2014-2020 che scadrà il 31 dicembre 2026 reperiremo le risorse necessarie e sufficienti per rifare l'intera direttrice stradale che va da Furigrotta a Salire fino allo svincolo tra Pianura e Soccavo. Una larga misura di questo intervento verrà effettuato con queste risorse. Un'altra parte residuale verrà effettuata con le attività di rifacimento che porrà in essere l'ABC a seguito della conclusione delle attività di posa in opera sotto traccia delle nuove condotte per la fornitura idrica. E questo è un intervento di grande rilevanza perché i nostri concittadini fin dall'inizio della consigliatura ci hanno sempre manifestato il loro disagio in riferimento a quella che è la precarietà della condizione del manto stradale di Via Cinzia. Per quanto riguarda Via Montagna Spaccata Beh, questo è un intervento altrettanto rilevante è una strada di collegamento tra il Comune di Napoli e i comuni limitrofi dell'area nord quindi Marano, Quarto o Pozzuoli e grazie sempre al lavoro del professore Cosenza avremo delle risorse che saranno finanziate nell'ambito delle attività di prevenzione rispetto ai fenomeni sismici legati al bradesismo nell'ambito del piano operativo strategico della città metropolitana di Napoli. Entrambe le opere sono in fase di progettazione esecutiva e quindi si prevede entro la conclusione di questo anno solare entro quindi la conclusione del 2024 il rifacimento di entrambe le strade e questo sarà un intervento di grandissima rilevanza per il nostro territorio perché sono arterie principali frequentate non solo dai residenti che dalla città tornano nei quartieri di residenza ma anche dei residenti dei comuni limitrofi dell'area nord che utilizzano via Cinzia e via Montagna Spaccata per tornare presso i propri comuni e quindi un intervento molto molto rilevante. Diciamolo poi, una mobilità più sicura, più veloce è segno di civiltà e di efficienza ma come stanno rispondendo i cittadini ai lavori in corso? I cittadini debbo riconoscere che con grande maturità stanno accettando quello che è un piccolo disagio legato chiaramente ai cantieri che in essere o che partiranno perché la previsione è quella di avere, come giustamente diceva lei delle strade più sicure, più pulite, più decorose e quindi un pizzico di disagio adesso per avere dei benefici in futuro. L'opera di riqualificazione però si estende anche al mercato rionale di Soccavo in che modo quindi è coinvolta anche l'Arena Sant'Antonio? Allora, sui lavori che coinvolgeranno l'Arena Sant'Antonio sono dei lavori molto rilevanti parliamo di decine di milioni di euro per l'adeguamento dell'Arena Sant'Antonio verrà realizzato sostanzialmente un nuovo tratto di collettazione delle acque che provengono dall'Arena Sant'Antonio in prossimità della collina dei Camaldoli e questo ci consentirà di migliorare in maniera sensibile quello che è il percorso di captazione delle acque non solo meteorico ma anche quelle fognare gli interventi riguarderanno anche il mercato di nevia nerva che allo Stato è chiuso perché l'ASL ha rinvenuto che non vi era il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie per quanto riguarda gli esercizi alimentari e quindi il mercato sostanzialmente che cosa accadrà all'interno dello stesso che con i lavori che si andranno a canterizzare di qui a breve all'interno dell'Arena Sant'Antonio nell'ambito dell'offerta migliorativa che la ditta giudicataria ha effettuato e grazie alla quale si è aggiudicata i lavori nella parte di mercato prospiciente Viale Traiano quindi il vecchio mercato che è in disuso da tanti anni dove si interverrà in questa prima fase con la realizzazione di uno scavo profondo diversi metri e con delle palificate al momento del ripristino sono previste delle attività migliorative che ci consentiranno nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti di poter riattare l'area mercatale e quindi far sì che i mercatali che attualmente non hanno un luogo idoneo dove poter espletare la propria attività di mercato potranno tornare nell'originario mercato di Via Nerva e al contempo avremo quindi due benefici un mercato riorganizzato ed efficiente nel pieno rispetto delle regole ed al contempo avremo il completamento di questo lavoro dell'Arena Sant'Antonio che ci consentirà un miglior sistema di cappatazione delle acque piovane e reflue e quindi avremo due benefici chiaramente ci sarà da faticare per 6-7 mesi circa dal momento della partenza del cantiere che però è imminente però di concerto con l'assessorato ai mercati con il servizio ciclo integrato delle acque con l'assessorato alle infrastrutture quindi cercheremo di portare a casa questo doppio risultato Ma secondo lei che cosa comporterà lo spostamento del mercato per il quartiere e per i cittadini? In realtà lo spostamento non è uno spostamento significativo per i cittadini nel senso che l'area attualmente è dislocata su una vecchia area di parcheggio all'interno della quale si trovava il mercato che poi ha subito le prescrizioni dell'ASL e poi vi era un'area sottostante quella prospiciente Viale Traiano che era l'originario mercato rionale cioè era stato progettato per essere proprio un mercato rionale ma che nel corso degli anni attesa la insufficienza di risorse e la impossibilità quindi di poter intervenire non si è mai avuto l'opportunità di poterlo riattare e di quindi adibirlo effettivamente ad area mercatale chiaramente ci dovranno essere tutta una serie di passaggi in Consiglio Comunale per la reistituzione di quello spazio come area mercatale però è una prospettiva molto molto importante che andrebbe a dare una risposta significativa e alla platea degli esercenti commerciali quindi mercatali ma anche ai residenti perché andiamo ad impattare positivamente su questo spazio Cambiamo argomento sempre con il legame tra territorio e enti principali avete stretto una collaborazione molto importante con l'Università Federico II di Napoli per gli 800 anni della fondazione dell'Ateneo di che cosa si tratta? In realtà noi, e devo riconoscerlo anche con mia grande sorpresa abbiamo scoperto che l'unica strada intitolata Federico II nel circondario del Comune di Napoli la abbiamo a pianura quindi stiamo immaginando con l'Ateneo Federiciano una collaborazione che innanzitutto possa tendere magari alla valorizzazione di quel tratto di strada magari con l'allocazione di una targa di riconoscimento ed al contempo l'idea è quella di immaginare dei percorsi di collaborazione tra l'Università Federico II e anche le nostre scuole del territorio per far sì che quelle che siano le istituzioni formative e culturali non solo del nostro territorio ma dell'intera area cittadina possano fare rete e soprattutto rappresentare delle opportunità di crescita per la nostra popolazione per i nostri residenti e soprattutto per i nostri ragazzi Quindi una rete da costruire con i ragazzi come saranno coinvolti poi concretamente? Quello che immaginiamo di fare e l'idea è sostanzialmente questa provare a chiaramente con il comparto competente dell'Università Federico II provare ad immaginare dei percorsi dove i ragazzi vengano effettivamente resi coscienti di quella che è la struttura geomorfologica del nostro territorio attraverso quindi le competenze di geologi dell'Università e in questo modo cercare di instaurare una consapevolezza di quella che è la struttura morfologica del nostro territorio accanto a quella che è una opportuna conoscenza dei luoghi e della storia dello stesso quindi un approfondimento scientifico di quello che è il territorio nel quale viviamo Ebbene, noi la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia questa mattina mattina live quindi ringraziamo ancora una volta il presidente della nona municipalità di Napoli Andrea Saggiomo Piccolo break, rimanete con noi